Se qualcuno avesse fatto ciò che ho fatto io in Siria, sarebbe diventato un eroe nazionale. L'ISIS sta scomparendo e stiamo lentamente riportando a casa i nostri soldati. Donald Trump conferma con un tweet che la decisione di ritirare le truppe dalla Siria, anche se ritorna a casa, potrebbe avere tempi più lunghi del previsto. Il senatore repubblicano, Lindsey Graham, che aveva duramente criticato la decisione dopo un incontro con Trump, ha infatti spiegato che il ritiro dei 2000 militari sarà completato solo quando l'ISIS sarà stato sconfitto definitivamente. Intanto però è bastato l'annuncio per rimescolare alleanze e strategie nel risico siriano, soprattutto nel nord del paese dove gli americani supportano le truppe kurde. Il luogo simbolo del futuro incerto della Siria è la città di Mambis. Qui i kurdi hanno già chiesto aiuto al loro nemico storico Bashar al-Assad per fronteggiare la minaccia turca. Ancara infatti è pronta a lanciare un'operazione militare in territorio siriano per colpire i kurdi delle unità di difesa del popolo, che ritiene alleati dei kurdi turchi del PKK. Venerdì scorso l'esercito siriano si era affrettato a dichiarare di aver preso il controllo di Mambis, ma le forze kurde prima e l'alleanza guida americana poi avevano smentito la notizia. Le truppe governative, ha spiegato questa rappresentante del Consiglio di Sicurezza di Mambis, sono ancora fuori dalla città perché sono in corso trattative sul ruolo dei militari russi alleati di Bashar al-Assad. La loro presenza potrebbe riempire il vuoto che gli americani si apprestano a lasciare e nel nord della Siria tutto potrebbe improvvisamente cambiare.